Per acquistare crediti visitate FIFA Coinstank, un sito economico veloce e sicuro al 100%. Inoltre potete utilizzare il mio codice coupon che trovate in descrizione per avere il 5% di sconto. Bella a tutti ragazzi, qua Orgasmic e sono qui a portarvi questa nuova serie dei potential upgrades di FIFA 15 che dovrebbero avvenire, penso dovrebbero uscire verso fine gennaio o giù di lì, comunque dovrebbero esserci. Poi sappiamo che la EA delle volte ritarda e anche molto su alcuni aspetti, però comunque sia, vi porto questa serie che in realtà volevo già farla da un po' di tempo. Poi però mi sono ricreduto, invece poi me l'avete chiesta praticamente tutti, qualsiasi mio fan seguace me l'ha chiesta in pratica, quindi non ho potuto non farla. E quindi vi porto questa serie in cui vi parlerò per tre giocatori alla volta di alcuni upgrade che secondo me sono necessari da fare su FIFA 15 perché sono i giocatori che quest'anno stanno giocando veramente bene e meritano di essere aggiornati, almeno le loro statistiche. Quindi partiamo subito con i tre giocatori di oggi, partiamo dal primo giocatore che viene dal nostro campionato, quindi dalla serie A e stiamo parlando di Dybala che sta avendo una stagione davvero esaltante con il Palermo con 9 gol e 6 assist in 18 partite, davvero uno dei giocatori più in forma del nostro campionato. Quindi questa sarebbe la carta che secondo me dovrebbe uscire con l'upgrade, ovviamente ancora argento perché potrebbe darsi che possa uscire anche addirittura oro, però io penso che almeno stando da quello che ho visto gli anni passati, gli upgrade dei giocatori argento rimangono comunque argento, non diventano per dire oro eccetera eccetera. Quindi secondo me rimarrà un 74, comunque sia un signor giocatore, un signor argentone che io ovviamente quando uscirà, se uscirà, lo proverò assolutamente perché guardate che belle statistiche. Io prevedo un 87 di velocità, cioè un più 4 intanto di overall, un più 1 in velocità, un più 5 in tiro che secondo me è giusto perché segna con grande frequenza, fa un gol ogni due partite stando alla media diciamo della sua rendimento stagionale, un più 4 di passaggi perché fornisce anche molti assist come giocatore quindi ci sta per forza, più 3 in dribbling, più 1 in difesa e più 2 in fisico che però vabbè quelle ultime due statistiche sono le meno importanti visto che comunque la fisicità è sempre bassina e la difesa conta poco per un attaccante. Ok, andiamo con il secondo giocatore di oggi e stiamo parlando di Alexis Sanchez dell'Arsenal dell'Arsenal che anche lui sta avendo una stagione portentosa davvero con 16 gol all'attivo e 8 assist in 29 partite ovviamente comprendendo coppe, preliminari di Champions eccetera eccetera questa sarebbe la sua carta con l'upgrade che è molto, anzi è uguale alla carta IF che ha ricevuto Sanchez con però il cambio di ruolo da COC ad AD perché la sua versione IF ha ricevuto appunto un cambio di ruolo da AD a COC mentre io penso che la EA non modificherà nell'upgrade se uscirà ovviamente l'upgrade il ruolo a Sanchez ma manterrà l'ala destra comunque sia le statistiche sono uguali come ho detto a quelle della carta IF troviamo un più 1 in velocità, un più 4 in tiro, un più 2 in passaggio, un più 3 in dribbling vabbè leggete anche voi più 3 in difesa anche se non so che cosa serva e un più 2 in fisico e visto che Sanchez ha ricevuto una versione IF verrà upgradata anche la versione IF e diventerà penso così da 85 passa a 86 con un più 1 in velocità come accade poi a tutte le versioni IF un più 2 al tiro, un più 2 al passaggio, un altro più 2 al dribbling un più 1 alla difesa e un più 2 al fisico davvero diventerebbe una carta che ovviamente come vediamo qui mantiene la posizione COC una carta costosissima, secondo me costosissima e ovviamente stra stra forte andiamo con il terzo e ultimo giocatore della giornata ci spostiamo in Francia, ci spostiamo in Ligane e stiamo parlando di Lacazette che è uno dei giocatori più in forma in Europa in questo momento Lacazette che ha all'attivo 20 gol e 7 assist in 25 partite cosa assurda davvero per un giocatore come lui veramente fortissimo questa sarebbe la sua carta upgradata che visto che lui ha ricevuto due versioni IF io ho fatto una sorta di media tra le due versioni IF e ho ottenuto questa versione upgrade io penso che verrà upgradato Lacazette perché con due versioni IF all'attivo tantissimi gol, prestazioni sublime da parte sua io penso che sia necessario far uscire questa carta andiamo a vedere un po' l'upgrade con un più uno in velocità un più cinque in tiro un più tre al passaggio molto molto alte comunque le statistiche un più due dribbling, più due difesa e più due di fisico visto che lui ha ricevuto due versioni IF la versione 80 diventa 82 con queste statistiche davvero un più quattro in tiro, un più quattro in passaggio qualcosa di devastante e la sua versione SIF cioè la versione 81 diventa 83 con delle statistiche paurose e io mentre stavo facendo questa immagine ho detto pensiamo se questo giocatore faccia in campionato altre grandissime prestazioni farà altre grandissime prestazioni e riceverà altre versioni IF la sua versione Team of the Season praticamente sarà 99, 99, 99, 99 cioè qualcosa di allucinante comunque ragazzi io spero che questo video vi sia piaciuto come sempre vi invito a lasciare un bel mi piace 400 mi piace uscirà un nuovo episodio vi invito a scrivermi nei commenti una cosa davvero importante quali sono i giocatori secondo voi che dovrei trattare nel prossimo episodio e quindi quelli che sono secondo voi quelli che meritano di ricevere un upgrade a gennaio poi gennaio, febbraio bisogna vedere anche quando li farà la EA come ho detto prima ovviamente iscrivetevi al mio canale pagina Facebook, Twitter, Instagram tutti i link li trovate come sempre in descrizione noi ci vediamo al prossimo video bella raga grazie a tutti